Ciao e bentornati sul canale! Bentornati sul canale, ormai hanno capito che devono abbassare il volume quando inizia il video e poi rialzarlo subito dopo, ha ucciso praticamente l'elfo domestico E solo nello starter pack? Aspetta, ripassiamo un attimo prima di passare all'apertura di 10 pacchetti oggi di figurine Allora, nello starter pack, più l'album Potete trovare solo queste card con questa qua bellissima Esatto, le potete trovare solo nello starter pack le card Queste E invece, negli album, le speciali sono dei personaggi Si possono inclinare e appoggiare e usare con i fondali Vedete, sono questi che troveremo anche all'interno dei pacchetti Che si possono utilizzare nei fondali Aspetta che metto a fuoco Che sono qua in mezzo, in fondo Questi sono i fondali con cui giocare con i personaggi Ma noi lo teniamo attaccato perché sinceramente Per me, a me, sembra una cavolata Nel senso che io fai delle cards O queste cose qui da tenere in piedi Tenere in piedi che non sono granché Vabbè, non mi piacciono Abbiamo cominciato ad attaccare tutte le figurine che abbiamo trovato E diciamo che ci è andata abbastanza bene Non le abbiamo trovato Un'altra da grattare Da grattare Da grattare Non le grattiamo Vediamo solo le altre Quelle da grattare Anche quelle non sono una grandissima idea Sì, cosa hai trovato? Il personaggio da utilizzare tutto glitterato è Elsa Questa è bellissima E vediamo Questa qui ce l'abbiamo già, mi pare E questa? Wow E queste piacciono anche a me Guarda, vediamo se riusciamo a farla brillare un po' Brillante Perché a me piacciono un sacco di grattori Ecco, guardate Sembrano i fuochi d'artificio Guardate che Roma Fantastico Bellissime Bellissime Poi Sara ne attacca qualcuno Ma purtroppo al papà piace tantissimo Attaccare le figurine E gliele attacco spesso io Perché mi rilassa E mi diverte Figurine glitterate Questa che bella Figurine glitterate Anche queste Sorelle che si riabbracciano Sorelle che si riabbracciano Nelle speciali Che faranno una brutta fine Bello nel film Questa è una parte del film Metallizzata Mi si vede a me tutto sfocato in fondo Perfetto Attaccheremo anche queste Questa sera passo un sacco Un po' di tempo da attaccare Queste vanno grattate Vi faccio vedere come vengono Intanto che Sara apre un po' di figurine Poi Aprile un po' Impilatele lì da te Intanto io faccio vedere Impilale Poi le facciamo vedere Quelle che abbiamo già Impilale Impilale Quelle che abbiamo già grattato In pratica per dire Qui abbiamo già Addirittura Completato una doppia Metallizzata Che anche questa è una parte del film Sì sì Sono tutte parti del film Ovviamente Ecco Quelle da grattare Alla fine Dopo aver grattato Si vede sotto Una Cosa farà Anna? Stare in contatto con sua sorella Con un messaggio Su un altro panino di carta E quindi Hanno aggiunto questa cosa Simpatica Quanto credono loro A me non piace Ma non deve piacere a me Quindi vediamo anche le altre Che hai preso Qui abbiamo Un Olaf Senza nassi Questa È bella Questa Queste due sono tanto belle Mentre apri altro Le facciamo vedere bene A me invece Quell'altra glitterata Allora qui Quella glitterata è bellissima Questa qui È proprio un piccolo quadro Metallizzata Con Elsa messa giù bene Qui abbiamo Un'altra speciale I pacchetti Vi ricordo Una parte del film Una parte Che sono Dei Grattare Grattare Sono fatti di carta Doppia Le bustine E quindi Possono andare Nella carta A riciclare Questa è molto bella anche Sì Questa te l'ho fatta vedere L'ho fatta vedere Prima Ok A me invece Quella Con i glitter I puntini glitterati E tutta olografica Quella lì È bellissima Quella lì Faccia vedere Con quella forse Concludiamo Una doppia Forza Faccia vedere velocemente Signorina Olaf Olaf Personaggio più simpatico Che c'è da grattare Che gratteremo poi Ah questa bella Di quelle da piegare Carina Questa Che è super bella Quando è completa Sicuramente Vediamo se per caso Ce l'abbiamo Wow Wow Le sorelle che si riuniscono Verso la fine No 41 Ci manca la metà superiore Vabbè Voglio trovare la 40 Quando ci scommetti Che forse Nell'ultimo pacchetto Anche perché non mi metto A attaccare adesso Perché potrei fare qualche errore Le cards Le riprendiamo E ce le rimettiamo Ho trovato un altro pezzo sotto Vediamo Un altro pezzo sotto ancora Allora Ho trovato Gli alberi Perché comunque Gli ambienti Dobbiamo Allora Poi questa Gli ambienti Si possono arredare Anche con gli alberi Non solo i personaggi Scena del film E questa E questa che è Elsa Sempre con un bel brillantoso È la 29 Vediamo se abbiamo La parte superiore No Anche qui abbiamo Solamente la parte inferiore Stiamo sotterrando La nanana surprise Di cartine Della Della cosa di fronte Intanto controllo Quest'altre Quest'altre due Elsa Elsa Dammi Questa Ok Poggiola qua Intanto guardo La 118 Si richiede Sverna Bella questa È un altro quadro Molto carina Questa È come brilla Questa è un'altra parte Del film Bella Con essa Con i capelli sciolti Finalmente Si è vero Questa è una parte Del film Con i genitori Di Anna e Elsa Vai Apri 118 No Anche qui Abbiamo solo metà Questo ti piacerà Un sacco Sono sicura Che ti piace No L'ho finito di vedere Non ti ricordi Certo che mi piace Sono sicura Che è uno dei tuoi personaggi Io avrei preferito Delle vere cards A questi Però Forse l'ho già detto Doppia Doppia ma bella Poi quelle doppie Le potete anche attaccare sul diario O aiutare qualcuno A completare La collezione Non per forza Vi devono dare qualcosa in cambio Perché se non ce l'hanno Poverini Aiutatevi Lo stesso Questa da grattare E qui abbiamo Christophe Christophe Quanto è rimasta? Una sola Intanto chiudiamo l'album E ci prepariamo Ai saluti Quello è Arendelle Al contrario Una metà di Arendelle Scena di film Non la completiamo di certo Con queste Però ci portiamo molto avanti E poi vedremo Che cosa fare Scena di film Come al solito Ve lo faremo rivedere Solo se riusciremo A Nelsa Bene Abbiamo aperto Questi dieci pacchetti Con voi Sperando di avervi fatto compagnia Per sette minuti E dieci secondi E ci salutiamo Ci vediamo Al prossimo video Ciao